La lotta al cambiamento climatico a Bruxelles si fa sempre più seria, con degli obiettivi ancora più ambiziosi. Tagliare le emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030 darà ai nostri figli la possibilità di trovare la strada già aperta per raggiungere la neutralità climatica. Fornisce inoltre la certezza di cui hanno bisogno gli investitori e un calendario è chiaro su come procedere i lavori. Nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di voler aumentare la riduzione delle emissioni inquinanti dall'attuale 40% al 55% entro il 2030. L'intenzione infatti è quella di rispettare gli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi. La Commissione è già al lavoro per presentare i piani di attuazione entro giugno del 2021. L'idea è quella di incrementare le energie pulite, migliorare l'efficienza energetica e potenziare le foreste. Questo nuovo obiettivo di taglio di emissioni è assolutamente fattibile sotto tutti gli aspetti, finanziario, economico e tecnologico. Ed è possibile per tutti i paesi dell'Unione Europea. Pochi dubbi però che la Polonia, che fa ancora affidamento sul carbone come fonte combustibile, darà del filo da torcere in sede di approvazione del nuovo piano sul clima. Soprattutto ora che l'obiettivo di riduzione è diventato ancora più alto.